Il terzo libro di cui voglio parlare è un libro che ha avuto un successo strepitoso da tutte le parti del mondo, si chiama The Secret ed è un libro di quelli che si definiscono di autoaiuto, nel senso che se tu leggi questo libro, anche questo fatto da piccoli estratti e aforismi, forse la tua vita non cambierà del tutto, ma forse avrai modo anche di riflettere su alcune cose importanti. Io vi lascio delle frasi, alla fine del video ci sarà una carrellata di frasi con una musica di sottofondo e avrete modo anche di gustarvele voi. Una delle frasi che preferisco di questo libro è questa. Occupati prima di tutto della tua gioia, le persone sono responsabili della propria gioia. Siamo noi spesso che abbiamo in mano la nostra vita, gli eventi certo ci capitano, ma siamo noi spesso a costruire la nostra felicità con le nostre scelte. Per cui quello che ci insegna The Secret è di seguire l'onda della felicità e della gratitudine. Io vi consiglio di leggerlo. Questo è il terzo libro della mia scelta. Ciao!